Il nostro percorso continua oggi con una destinazione o meglio per gli emigranti un punto di arrivo molto importante perché si tratta in fin dei conti della capitale del Brasile per lungo tempo fino direi a quando si estinse l'emigrazione italiana negli anni 60 perché prima che Belo Horizonte la sostituisse Rio de Janeiro era la storica capitale del paese. Prima che Brasile la sostituisse? Sì ho detto Belo Horizonte è un bel lapsus questo qua. Ero fissato che devo parlare anche di Minas oggi e mi ero fissato con Belo Horizonte sì il capitale è Rio de Janeiro ed è a Rio de Janeiro che si svolge uno dei tanti ma forse anche dei primi episodi della emigrazione italiana e voglio partire di qui anche se abbiamo già parlato più di una volta delle origini proprie del fenomeno ma in questo caso intendo servirmi di una breve narrazione quasi biografica, una storia di vita per dare un'idea di quella complessità a cui in molte precedenti occasioni e ancora mi toccherà di parlare ho accennato il fatto che gli emigranti italiani arrivano in un Brasile diverso a seconda che ci mettano piede negli anni 80 dell'800 oppure all'inizio del secolo XX oppure tra la prima e la seconda guerra mondiale o addirittura dopo la conclusione della seconda guerra mondiale negli anni sostanzialmente che vanno dal 50 al 60. A seconda dei periodi le storie si diversificano e soprattutto nel mentre si svolge una nuova emigrazione quelle passate non rimangono con i loro protagonisti tutte quante legate al solo luogo di primo arrivo perché c'è una vicenda che le collega è quella della mobilità. La storia dell'immigrazione è una storia di mobilità ed è storia anche di mobilità interne. L'ho detto più volte e le vicende che riguardano un emigrante di nome Enrico Secchi e la sua esperienza lo dimostrano. Vorrei partire di qui per introdurre poi appunto le questioni relative alla presenza italiana e ai rapporti fra la cultura italiana quella brasiliana in Rio de Janeiro. Siamo proprio alle origini dell'immigrazione nel 1874 alla fine del 1874 però e non nel febbraio quando è stata fissata come data principale il 24 febbraio di quell'anno l'arrivo della spedizione tabacchi in Espirito Santo. Siamo invece con un'altra delle spedizioni iniziali quella di Sabino Tripoti un faccendiere mi pare che fosse marchigiano comunque meridionale che porta a Rio de Janeiro una nave l'Anna Pizzorno a bordo della quale ci sono dei contingenti di emigranti di varie parti d'Italia. Ci sono veneti, tirolesi, i trentini sostanzialmente, italiani del sud e anche un contingente abbastanza robusto e omogeneo di emigliani, emigliani della pianura vicino a Reggio Emilia, tra Reggio Emilia, Mantua e Modena e a guidare questo gruppo c'è un giovane di poco più di vent'anni che è però il segretario della persona che ha ideato la spedizione, chiamiamola così. Lei si chiamava Adelina Malavasi ed era la moglie di un musicista molto ben introdotto a corte a Rio de Janeiro perché era una donna dell'entourage di Don Pedro II e di sua moglie Maria Cristina che avevano incoraggiato questa iniziativa della Malavasi. La Malavasi aveva sentito parlare a corte, aveva probabilmente avuto informazioni dirette da qualcuno o dei ministri o dei collaboratori di Don Pedro che c'erano delle possibilità di consentire l'impianto di una colonia agricola e si era impegnata a far arrivare dei suoi compaesani che evidentemente avevano bisogno di lavoro e di terra. Questo tanto per dire che una delle molte strade dell'immigrazione si incrocia con un calcolo economico elementare, è una questione anche di interessi. I suoi compaesani erano abbastanza poveri ma anche erano abbastanza, come dire, bravi nel loro mestiere, erano quasi tutti contadini e lei organizza questa spedizione. Lei viaggia però a bordo di una nave diversa perché l'Anna Pizzorno arriva nel porto di Rio di Janeiro dopo quasi 40 giorni, 30 giorni di macchina a vapore, come dicevano le canzoni, e lì succede un guaio perché nel corso del viaggio dell'Anna Pizzorno la promotrice di questa iniziativa, che è già arrivata a Rio, muore all'improvviso lasciando senza referenti i suoi compaesani che erano però stati, come dire, accuditi da un giovane maestro elementare del paesino da cui proveniva la maggior parte di loro, Concordia, un paese che c'è tuttora in Emilia, dove lui aveva esercitato il suo mestiere di maestro elementare, era il maestro anche di alcuni dei ragazzi che erano a bordo della spedizione. Bene, facciamo poi breve la storia. Enrico Secchi arriva e avvalendosi ad un certo punto proprio dell'intimità, del rapporto che aveva legato la sua dattrice di lavoro, Adelina Malavasi, con l'imperatrice, entra in contatto con l'imperatore e sostanzialmente i reali, cioè i sovrani, decidono di aiutarlo a far uscire dai guai questi che erano rimasti senza evidentemente il loro principale referente, la donna che era mancata. E di conseguenza vengono inoltrati in una località dello stato di Rio de Janeiro, allora la provincia di Rio, a Porto Real, dove c'era già una colonia agricola, una fazenda di immigrati di varie nazionalità, anche francesi e svizzeri, che però stava, come dire, decadendo come impresa. E lì trovano posto e sostanzialmente è lì che si sviluppa poi la loro storia, perché è simile a quella di tanti luoghi in cui gli italiani arrivano nella fase iniziale dell'immigrazione, si cresce di numero, ha vicende sue interne. Tutto questo viene raccontato da Secchi nel suo diario, perché Secchi, che era appunto rispetto alla maggior parte dei compagni di viaggio e di avventura dotato di una buona istruzione, la ripeto, aveva fatto il maestro elementare al paese, era anche un uomo giovane e intraprendente, tiene nota di tutte quante le esperienze che si vengono facendo a Porto Real fino al 1885, quando per la prima volta, dopo più di dieci anni, riesce a tornare in Italia per fare una visita sostanzialmente ai parenti e agli amici, perché poi la sua vita non si continuerà, non si svilupperà lì a Porto Real, dove prosegue invece per i discendenti dei primi arrivati, ma si svilupperà in giro per il Brasile, perché lui come prima parte di una nuova esistenza brasiliana finisce dalle parti di Juiz de Fora, in Minas Gerais, forse per questo ho iniziato con un lapsus su Bello Orizzonte rispetto a Rio, dove diventa addirittura amministratore di una fazenda di grandi dimensioni e assiste, gestendone anche la fase finale al trapasso dal regime servile a quello del lavoro libero con l'abolition, con la fine della schiavitù in Brasile e diventando anche un uomo di risorse e di successo. Alla fine del secolo, tanto bene ha operato come amministratore di questa fazenda in Minas Gerais che passa da Minas, da Juiz de Fora, a San Paolo, dove fonda una ditta di paste alimentari, un'altra delle attività che gli immigrati italiani svolgevano, puntando sulla familiarità con il cibo delle terre e delle origini e per tutti gli anni venti, anche gli anni della prima guerra mondiale, quando torna a far visita ai parenti in Italia e si afferma, lo trovate nei volumi campionari dove si celebrano i fasti dell'industria italiana in Brasile, morirà poi nel 1931 e in azienda gli sono già però subentrati i figli che ancora negli anni 50 del 900 figurano fra i più ricchi imprenditori di origine italiana del Brasile. Perché ho raccontato questa storia? Prima di tutto perché c'è di mezzo l'avventura del diario. Il diario era scomparso e solo nel 1979, quando io pubblicai un libricino intitolato America America con le lettere dei primi migranti italiani in Brasile e anche in Argentina, un sacerdote, un missionario italiano che si chiamava Don Giovanni Battilano e che era anche un mio compaesano, diciamo compatriota, scopre dai discendenti di allievi suoi della città di Resende, dove era andato in missione, che esisterebbe un manoscritto da qualche parte che racconta le origini della colonia di Porto Reale. Si mettono in moto in tanti, il diario spunta fuori e nel 1987-88 perviene all'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, poi verrà pubblicato. Questa duplice storia di un'avventura e di un documento, di un'autonarrazione come si dice oggi, ci mostra un percorso particolare, forse si può dire che sia anche fuori del normale, una storia in cui figurano all'inizio addirittura l'imperatore e sua moglie e c'è un interessamento continuo di Don Pedro II per questi contadini emiliani, perché i rapporti con L'Aderina Malavasi e anche con Enrico Secchi quando entra in funzione sono rapporti ottimi, narrati e raccontati in un'autobiografia che è come un romanzo, ci rappresenta una parte della immigrazione dall'Italia al Brasile e del progressivo adattamento, della progressiva integrazione degli italiani. A riprova del fatto, visto che sono stati tirati in ballo oltre che Porto Reale e la Valle del Paraíba, Rio de Janeiro, anche Swiss de Fora e Minas Gerais, c'è anche questa mobilità interna a cui ho spesso fatto cegno, ma soprattutto c'è un riferimento agli italiani anche di Rio de Janeiro e per questo io oggi ho il piacere di avere in dialogo con me Vincenzo Cappelli che è uno dei nostri storici che più di tutti hanno studiato Vittorio. Io quest'oggi probabilmente ho qualcosa che non funziona, ma questo rende più umano il discorso mio, sono proprio fuori. Vittorio poi che conosco da tanti anni e che è un professore di storia contemporanea che si è molto occupato non solo del Brasile ma anche del resto dell'America Caratina in rapporto all'immigrazione, soprattutto non degli italiani del centro nord, ma degli italiani del sud, anche se studiando le migrazioni le distinzioni regionali rimangono importanti, ma emettono anche in risalto alcune caratteristiche proprie, ma si confondono poi nel problema centrale che quando gli italiani vanno all'estero dopo l'unità d'Italia sostanzialmente è impossibile che perdano i tratti originari della loro appartenenza areale, geografica, delle loro province, più ancora che non delle loro regioni, addirittura dei loro singoli paesi. Tuttavia, se non altro per il fatto che vanno a vivere e a lavorare in un paese diverso, per molto tempo rafforzano il senso di appartenenza nazionale e talvolta acquistano anche un sentimento di italianità proprio all'estero, anche se questo è un fenomeno relativo e provvisorio perché man mano si trasformerà per l'evoluzione delle famiglie e delle loro storie in qualcosa che riporta all'identità ancestrale, ma che viene sostituito gradatamente da un forte legame col paese, come si dice in sergo, di adozione in questo caso il Brasile. Però dicevo che Vittorio Cappelli questo ha studiato a lungo e in particolare ha studiato il caso degli italiani di Rio, ma anche di altre parti. Vorrei cominciare chiedendo a lui come si può configurare nell'ambito dell'emigrazione italiana questa presenza sin dalle origini, perché Rio ha tutta una sua storia in cui nell'Ottocento, prima ancora che emigranti e emigranti, ci sono emigranti di tipo particolare, ci sono artistici, ci sono musicisti. Ecco, come può inquadrare questa relazione che si ristaura fra l'Italia e il Brasile attraverso Rio de Janeiro con l'arrivo di tante persone che provengono da ogni parte d'Italia e su questo illuminarci. Magari così io evito di dire quante altra castroneria che non è Italia. No, 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 non intendo illuminare, però voglio rammentare alcuni elementi che mi sembrano importanti per capire la storia della presenza italiana a Rio de Janeiro, che è stata studiata in verità piuttosto di recente. Prima sono state privilegiate altre regioni, come San Paolo, Rio Grande do Sul, Spirito Santo, eccetera. La presenza degli italiani a Rio de Janeiro risale all'inizio dell'Ottocento. Emilio ha già accennato all'imperatrice Teresa Cristina di Borbone, ma quando Teresa Cristina di Borbone diventa la sposa dell'imperatore di Don Pedro II, in realtà a Rio de Janeiro c'è già da qualche decennio una presenza di italiani, che è da attribuire a due fattori fondamentali secondo me. In primo luogo il rapporto tra il Borbone di Napoli e l'impero neonato, impero del Brasile. Già nel 1826 il regno delle due Sicilie riconosce l'indipendenza del Brasile e poi già nel 1830 Ferdinando II, il re delle due Sicilie, nomina il primo console napoletano a Rio de Janeiro. Quindi c'è queste precoci relazioni diplomatiche tra il regno di Napoli e l'impero del Brasile. L'altro elemento importante, prima dell'arrivo di Teresa Cristina, è l'emigrazione politica, cioè i mazziniani che sbarcano a Rio de Janeiro e l'arrivo nel 1835 di Garibaldi, mandato lì assieme a Giovanni Battista Cuneo per volontà di Mazzini. Lì c'è questa piccola comunità politica repubblicana che costituisce un primo insediamento importante che già prende forma prima del 1843 quando arriva Teresa Cristina di Borbone. La principessa napoletana che diventa l'imperatrice del Brasile, sappiamo ormai perché è stato il personaggio finalmente studiato adeguatamente, sappiamo che era una donna colta, era appassionata di archeologia, di musica, che portava con sé a Rio de Janeiro, nelle sue navi, un gran numero di artigiani, soprattutto delle seterie di San Leocio vicino Napoli e artisti come il pittore Castelpoggi, il cantante Arcangelo Fiorito e così via. È quasi contestuale all'arrivo di Teresa Cristina a Rio de Janeiro la presenza anche di un grande soprano italiano, Augusta Candiani, che è un'icona della cultura brasiliana dell'ottocento, Machado de Assis, ricorda l'esibizione di Augusta Candiani, di questo soprano che mandava in estasi i giovani della dell'élite carioca. C'erano anche altri personaggi che Teresa Cristina individua e assimila nell'ambiente di corte. C'era un medico letterato che si chiamava Luigi Vincenzo Simoni già dal 1817, addirittura a Rio de Janeiro, che diventa poi il consigliere di lettura di Teresa Cristina e l'educatore delle principesse, delle figlie di Teresa Cristina, di Isabel e Leopoldina. E poi è un tutto un susseguirsi di presenze culturali e artistiche è proprio la imperatrice. Voglio solo accennare a qualche personaggio. Marietta Baderna, una ballerina mazziniana, repubblicana, figlia di un repubblicano che arriva a Rio de Janeiro in fuga dall'Italia dopo il fallimento delle rivoluzioni del 1848. Anche questo diventa un personaggio vistosissimo nell'ambiente culturale della capitale brasiliana, tant'è che lascia tracce anche nel lessico brasiliano. Il cognome di questa ballerina, Baderna, diventa un termine assimilato dal portoghese brasiliano come sinonimo di confusione, di pericolosa confusione. E poi ancora, il più grande musicista brasiliano dell'Ottocento, Carlos Gomes, viene spedito da Teresa Cristina a studiare al Conservatorio di Milano e lì lui si forma come portando, riportando poi in Brasile la sua formazione italiana realizzata al tempo dei trionfi di Giuseppe Verdi. Poi andando avanti nel tempo si possono fare altri esempi, fino ad arrivare alla più famosa attrice italiana di fino all'Ottocento, Eleonora Duse, che nel 1885 sta per ben tre mesi a Rio de Janeiro ad esibirsi. E negli anni immediatamente successivi sono due italiani, i fratelli Bernardelli, figli di un violinista italiano e di una ballerina milanese che, pur nati in America Latina ma formatisi artisticamente in Italia, a Roma per molti anni, tornano in Brasile e entrano nelle grazie della corte imperiale di Don Pedro e di Teresa Cristina e diventano protagonisti della vita artistica della capitale, uno pittore e l'altro scultore, Rodolfo ed Enrico Bernardelli. Insomma, ho fatto questi esempi per dire della effervescenza, della ricchezza, della presenza italiana prima ancora che si manifesti l'immigrazione di massa, che pure prende forma, prenderà forma poi negli ultimi anni dell'Ottocento. Però prima di parlare dell'immigrazione di massa vorrei fare un ultimo esempio che arricchisce il quadro della presenza italiana a Rio de Janeiro nel pieno dell'Ottocento, fin dalla metà dell'Ottocento. Si tratta dei fratelli Farani, dei ramai di Sapri del Cilento, i quali erano sbaccati a Rio senza quattrini e rischiavano di fare una brutta fine. Ma è una storia aneddotica che è stata raccontata in passato, ma è bene rammentarla ancora adesso. I fratelli Farani vengono per caso ascoltati dal palazzo dell'imperiale, da Teresa Cristina, mentre litigano per strada rinfacciandosi l'un l'altro la colpa di essere sbarcati a Rio de Janeiro. Che facciamo qui? È colpa tua, no? È colpa tua, eccetera. Parlando in dialetto, in un dialetto meridionale. La Cristina abbia mandato dei soldati, delle persone a prendere questi giovani italiani quasi napoletani. Conosciutoli, conosciutili, si rende conto della intelligenza, delle potenzialità di questi ragazzi quasi suoi concittadini e in breve, da ramai che erano, diventano i coniatori della zecca imperiale. Non solo, ma Teresa Cristina non contenta di questo primo successo, li rispedisce a Napoli, li fa perfezionare come orafi e tornati poi da Napoli a Rio de Janeiro diventano gli orafi prediletti della elite carioca. La loro attività ottiene rapidamente un grande successo e consente loro poi di investire anche in altre attività, principalmente nella attività delle costruzioni costruzioni e vili, diventando i primi costruttori moderni della capitale. Questi fratelli Farani sono i primi a costruire a Rio secondo modalità moderni da quelle della città coloniale. Costruiscono strade larghe, alberate, piazze, in quartieri che poi diventeranno trainanti nella storia di Rio de Janeiro come Botafogo e altri. Anticipando in questa maniera quello che accadrà poi con la immigrazione di massa, cioè dagli anni 70-80 dell'Ottocento. Certo, non si tratta di una vicenda comparabile in termini quantitativi con quella di San Paolo, è una storia molto più contenuta dal punto di vista quantitativo, ma non è trascurabile direi perché agli migratori a Rio de Janeiro, nella capitale, si contano circa 25 mila italiani e altre tanti se ne contano nello Stato, principalmente nei centri urbani più significativi attorno a Rio, dalla Serra alla Baixada Fluminense, quindi da Petropolis a Valenza a Niteroi e così via. Quindi in tutto circa 50 mila persone che a quel tempo sono un numero, direi appunto, ripeto, non trascurabile. Si tratta però di una immigrazione diversa da quella descritta da Emilio prima quando ha raccontato la vicenda di Enrico Secchi di Porto Reale, perché nel caso di Rio de Janeiro si tratta di una immigrazione assolutamente spontanea che si sviluppa per catene migratorie che si organizzano nei paesi di partenza e i luoghi di partenza sono principalmente in un'area del sud continentale. Ci sono componenti, poi magari Emilio ce ne parlerà, componenti di origine settentrionale, Veneta in particolare, a Petropolis, nell'area industriale di Petropolis, ma nella capitale l'origine assolutamente dominante e per l'appunto meridionale. Io nelle mie ricerche su Rio de Janeiro ho individuato, per semplificare, due gruppi familiari principali, uno calabrese e un altro campano, cilentano, per essere più precisi. Il primo è liderato, guidato da un costruttore calabrese, da uno scalpellino calabrese, intraprendente e geniale direi, che diventerà poi nel giro di non molti anni il più importante costruttore della città, la più importante impresa edile di Rio de Janeiro per almeno 50 anni, per mezzo secolo, e viene fondata proprio da questo Antonio Iannuzzi, questo ex scalpellino calabrese, che con i suoi fratelli dà vita a questa impresa, che ha in qualche maniera il suo culmine nella riforma urbana di Pereira Passos, nell'apertura nel centro della città dell'Avenida Riobranco, dell'Avenida Centrao, che poi diventa l'Avenida Riobranco. Lo sventramento del centro storico della città, la costruzione di questa strada sul modello dei boulevard parigini, è da attribuirsi poi materialmente, in misura preponderante, a questa impresa di costruzione di questi fratelli calabresi. La spinta ideale, culturale, che conduce alla riforma urbana di Rio de Janeiro nasce sicuramente dalla francofilia dell'élite dominante in Brasile a fine ottocento. Il modello ideale è per l'appunto la parigi di Haussmanns, i boulevard e le bellezze, le sonorità e i colori della belle époque parisienne. Ma chi realizza quel progetto materialmente non sono i francesi che sono in numero irrisorio presenti nella capitale in Brasile in generale? Sono operatori, tecnici, imprenditori e operai di origine italiana, capeggiati in questo caso sul piano delle costruzioni, dell'architettura, della riforma urbana della città, sono appunto questi fratelli Iannuzzi. Il secondo gruppo familiare che ho individuato tra gli italiani di Rio de Janeiro tra 8 e 900 ha caratteristiche completamente diverse. Si tratta dei fratelli segreto, questo è il loro cognome, che partirono da un paesino del Cilento e arrivarono nella capitale con una notevole dose di grande spirito di avventura e con una buona dose di spregiudicatezza. Questi fratelli segreto per almeno 10-15 anni nella capitale non fanno altro che entrare e uscire dalle galerie perché si danno ad attività illegali. La loro principale fonte di reddito per un buon numero di anni è un gioco d'azzardo, è un gioco d'obbiscio. Un gioco d'obbiscio che è un gioco d'azzardo praticatissimo, popolarissimo, ma illegale e che comporta per questi fratelli segreto un rapido arricchimento, ma anche frequenti visite alle galerie brasiliane. Giunti ad un notevole livello di agiatezza attraverso queste attività, queste persone, questi immigrati si riciclano dimostrando un notevole spirito creativo. il leader di questo gruppo familiare, Pasquale Segreto, fonda a Rio de Janeiro una attività culturale che costituisce un passaggio secondo me storico importante nell'intera storia della cultura brasiliana tra 8 e 900. Cioè Pasquale Segreto realizza, è il principale realizzatore di una sorta di processo di democratizzazione della cultura musicale, artistica e teatrale brasiliana, perché determina il passaggio dal melodramma italiano, dalla lirica dei grandi teatri, il grande teatro lirico di Rio amministrato in qualche maniera da Teresa Cristina, così come i grandi teatri di San Paolo o quelli mitici dell'Amazzonia, di Manaus, di Belen. Con Pasquale Segreto si passa da questa dimensione, è l'Italia, si passa dalla musica colta al teatro musicale, al teatro popolare, a una sorta di industria del divertimento che si concentra nella Prazza Tiradentes a Rio de Janeiro, che diventa un parco di divertimento incredibile frequentato da migliaia e migliaia di persone. Ne è prova anche l'affermazione personale di questo Pasquale Segreto che morirà nel 1920 e in occasione dei suoi funerali, i principali quotidiani di Rio de Janeiro, usciranno parlando di lui come del ministro del divertimento. È morto, scomparso il ministro del divertimento e migliaia di persone parteciperanno commosse a questo funerale testimoniando appunto il successo di questa operazione. C'è poi anche, ci sono due diramazioni di questa esperienza. Una è di tipo artistico, il fratello più giovane di Pasquale Segreto, Gaetano Segreto, chiedo scusa, Alfonso Segreto, era un giovane dalle idee, un giovane irrequieto dalle idee anarchiche, ma molto bravo anche dal punto di vista dell'uso delle tecnologie moderne, che è passato alla storia come il fondatore del cinema in Brasile. È il primo che fa delle riprese della Baia di Guanabara e poi produce nel giro di pochissimi anni, tra 8 e 900, una grande quantità di filmati, di documentari che tra l'altro stanno studiando eccetera. Pare che sia in via di preparazione anche un film in Brasile che racconterà la storia di questo Alfonso. Questo mi sembra un elemento che noi non possiamo approfondire in questo ciclo di conferenze, di conversazioni, ma mi pare che sia uno dei punti che meriterebbero di essere tenuti presenti e magari presi in considerazione in futuro, perché al di là dell'iniziativa specifica di questo rampollo di casa segreto c'è anche una produzione cinematografica, almeno a giudicare dai giornali. Io ricordo che nella prima parte del Novecento, dai primi anni del nuovo secolo, quando l'emirazione italiana si è in un certo senso stabilizzata, tenete presente che in realtà nel 1902, in seguito a una misura presa dal governo italiano per impedire un eccessivo sfruttamento dei propri connazionali, si interrompe il flusso emigratorio, chiamiamolo così con termine nostro prepagato, cioè viene vietata in Italia la pratica del ruolamento a titolo gratuito per il viaggio di emigranti da indirizzare non solo in Brasile ma in ogni parte del mondo e questo fatto della chiusura di uno dei canali di approvvigionamento di manodopera italiana costituisce un primo spartiacque, ma nel frattempo ha il flusso emigratorio imponente, quello proprio fluviale o diluviale dell'esodo in massa delle origini e della fine dell'Ottocento e che anche, come avete sentito anche tutto sommato a Rio de Janeiro, aveva avuto delle dirammazioni sue perché le cifre non sono paragonabili senz'altro a San Paolo o alla neonata bell'orizzonte, però sono cifre considerevoli. Ebbene, questo periodo che comprende al suo interno anche lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il collocarsi del Brasile nel corso della guerra anche a fianco degli alleati e quindi dell'Italia, è un periodo di grande vivacità intellettuale e questo lo si vede anche nel primo interessamento che comincia ad esserci non in tanti ma in alcuni dei più qualificati intellettuali e scrittori brasiliani rispetto a questa realtà immigratoria che si è trasformata in una componente importante nella vita dei centri urbani del nuovo Brasile ed è anche riscontrato, oltre che da questo interessamento, anche dall'inevitabile fortuna che arride alle nuove pratiche tecniche come quella cinematografica, su cui sarebbe caso, dicevo, di poter tornare con calma perché ho l'impressione, anche a giudicare soltanto dalla pubblicità che ne facevano i giornali, che sia esistita oltre che una produzione documentaristica come questa del giovane segreto così rispetto ai panorami, ai paesaggi e agli ambienti, quelli urbani di Rio ad esempio, sia esistita anche una produzione cinematografica vera e propria, di film, di pellico ricordo nei giornali ad esempio del sud del Brasile di avere visto nel periodo che stavo studiando della grande guerra, le pubblicità di alcuni film sull'emigrante, film talvolta italiani anche che non so come doppiassero con delle probabilmente didascalie perché fino all'avvento del sonoro si tratta di pellicore che mettono in scena storie con le didascalie e il sottofondo musicale dei pianisti e dei musicisti che accompagnano a risolgersi delle immagini e anche in quello l'impressione che la componente italiana abbia giocato un ruolo importante. Dopo bisogna dire che il ministro del divertimento e tutte quelle componenti, il gioco del biscio e il gioco d'azardo sostanzialmente, sono una costante di molti ambienti dell'immigrazione italiana all'estero. Naturalmente con gradazioni e anche connotazioni molto diverse perché un conto è la Rio de Janeiro degli anni 10 e degli anni 20 e ha anche quel margine di presudicatezza che mette a contatto qualcuno dei protagonisti, come ha detto Vittorio con le patrie di galera, andare dentro e fuori dalle prisioni perché accusati di reati che sono una cosa diversa da quella che si avrà negli Stati Uniti degli anni 20 e degli anni 30 perché ovviamente lì c'è una storia sia di speculazioni in determinate pratiche dopo l'avvento del proibizionismo nel commercio clandestino di vino e ricuori e poi c'è anche un coinvolgimento pesante della componente etnica italiana che figura essere ancora oggi, col padrino e dintorni, al centro di tutta una narrazione che invece non può avere luogo in Brasile dove non c'è stato in realtà. Ci sono episodi anche, come dire, che coinvolgono gli italiani che finiscono sui giornali e ricordavo all'inizio di questa cavalcata con vicende le migrazioni, il processo intentato Angelo Longaretti che per otto anni tiene viva l'attenzione della stampa in lingua italiana di tutto il Brasile su questo giovanotto che per difendere l'onore della sorella e del padre insultato dal fazendero, fra l'altro fratello e presidente della Repubblica Camposalle, lo uccide e finisce ovviamente sotto processo, insomma per intervento proprio continuo assiduo in sua difesa della comunità italiana, in questo caso paulista, viene sottratto al massimo della pena e anche poi dopo otto anni di carcere acquista libertà e ritorna in Italia. Però questi episodi che possono trovare luogo anche nella cronaca, ad esempio dei giornali, ecco una cosa di cui poi vorrei se per caso Cappellis ne ha più notizie di me, perché io ho studiato la stampa in lingua italiana, quella più importante e capitanata dal fanfula di San Paolo, ma ogni località in cui siano arrivati gli italiani dà luogo prima o poi alla nascita di una qualche testata giornalistica. Scusami, anche a Rio de Janeiro c'è una stampa italiana particolarmente interessante. Prego, prego. Sì, colgo al balzo questo suggerimento. La stampa italiana a Rio de Janeiro è particolarmente interessante a mio avviso perché anche per ragioni quantitative, cioè nel senso che rispetto al numero dei giornali, delle testate italiane che compaiono a Rio de Janeiro tra otto e novecento è altissimo. Cioè ci sono, per intendersi, molti più giornali italiani a Rio de Janeiro che non a Porto Alegre, dove c'erano moltissimi più italiani, ma meno giornali. Questo perché l'immigrazione italiana della capitale di Rio de Janeiro ha dei particolari connotati urbani e civili che portano con sé e anche il moltiplicarsi delle iniziative giornalistiche. Ciascuno di questi gruppi familiari ha un giornale di riferimento. I costruttori annuzzi hanno un giornale che si chiama La Voce d'Italia. I fratelli Segreto hanno invece un altro giornale che si chiama Il Bersagliere. Attorno a questi due giornali ce n'è tutta una costellazione che li contorna e arricchisce il quadro. C'è poi da aggiungere che proprio la circolazione della stampa nella capitale brasiliana diventa una sorta di monopolio calabrese, nel senso che i venditori dei giornali, gli strilloni, i giornalari, è di due paesi calabresi in particolare, che sono Paola e Fuscaldo, due paesi molto vicini tra loro. I venditori dei giornali, che erano ovviamente venditori ambulanti, ragazzi, bambini per lo più, erano organizzati proprio da questi immigrati calabresi che costruirono una tradizione, una tradizione anche a suo modo culturale e religiosa. Il protettore dell'Associazione dei giornalai di Rio de Janeiro era San Francesco di Paola. E questi immigrati si organizzano in associazioni che creano per l'appunto questa sorta di monopolio, di cui io ho trovato traccia anche nei miei viaggi a Rio de Janeiro, molti anni dopo ovviamente dell'inizio di questa vicenda, ho trovato edicolanti giornalai calabresi di Paola e di Fuscaldo un po' in tutta la città, a nord nel quartiere di Tijuc, nell'avvenire Rio Branco in centro e anche nella zona sul più ricca e moderna, ho trovato in ciascuno di questi quartieri di queste zone ancora edicolanti giornalai di origine calabresa. Ovviamente sono i figli, i nipoti, i pronipoti di quelli che hanno dato vita a questa vicenda. Dunque questo è un altro aspetto, a mio avviso, da prendere in considerazione per apprezzare il complesso, l'insieme della presenza italiana nella capitale, dalla quale poi però ci sono delle diramazioni che vanno in altre direzioni. Una la voglio rammentare, visto che in questi incontri un punto di riferimento fondamentale è Mila Gerais, una diramazione che ha a che fare proprio con l'attività dei fratelli segreto è quella dei costruttori calabresi di Juiz de Fora che sono Pantaleone e Raffaele Arcuri, padre e figlio, che svolgono un ruolo a Juiz de Fora, pare un abito ovviamente su scala ridotta a quello svolto dai fratelli di Annunzi a Rio de Janeiro. Cioè diventano i protagonisti dello sviluppo urbano di Juiz de Fora tra 800 e 900 e poi ci sono diramazioni ancora più di lunga gittata, nel senso che proprio da Rio de Janeiro parte a fine 800 una spedizione diretta in Amazzonia. Ecco, questo è un aspetto che vorrei sottolineare perché al di là della capitale di Rio oppure degli episodi come questo ricordato Mineiro c'è un capitolo di storia che nessuno aveva indagato prima di te che riguarda proprio gli italiani in parti del Brasile che normalmente si considerano tra quelle non raggiunte, non toccate dall'immigrazione italiana e viceversa esiste una realtà che è stata poco studiata o meglio che hai studiato fondamentalmente soprattutto o solo tu che riguarda proprio l'Amazzonia che riguarda anche alcune città importanti come Salvador del Bahia ma quel mondo che colpisce di più di solito l'immaginazione e la fantasia degli italiani parlando del Brasile. Un Brasile tropical ma questo è tropical su serio. Scusa se ti avevo interrotto, continua pure che ci interessa. No, 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 volentieri sposto l'attenzione proprio sull'Amazzonia e sul nord-est del Brasile che dicevi bene tu sono stati tradizionalmente considerati come territori del Brasile non toccati addirittura dalle immigrazioni. E invece, ecco, partiamo da Manaus che è il cuore diciamo urbano dell'Amazzonia alla fine dell'Ottocento parte una spedizione da Rio de Janeiro capeggiata dal costruttore Iannuzzi per andare a costruire il teatro no, non il teatro il teatro era già quasi completato era già forse addirittura era stato già inaugurato appena inaugurato un paio d'anni scorcio dell'Ottocento il governatore dello Stato di Amazonas chiama la ditta Iannuzzi per andare a costruire la Santa Casa del Misericordia è un'impresa che, come dire, che fallisce nel giro di qualche anno per ragioni che non sto qui a raccontare ma è un momento significativo di una vicenda che riguarda circa 2.000 italiani una comunità di italiani di circa 2.000 persone teniamo conto che Manaus a quel tempo ha meno di 50.000 abitanti ha tra i 40 e i 50.000 abitanti dunque 2.000 italiani sono una realtà significativa e importante ed è una realtà che si muove che agisce su più livelli uno è quello come dire popolare che agisce nei commerci nelle botteghe nell'artigianato eccetera che ha una provenienza precisa si tratta come dicevo prima per Rio de Janeiro in questo caso in maniera ancora più accentuata si tratta di migrazioni spontanee cioè di catene migratorie che spesso partono da un paese anche piccolo dell'Italia meridionale e arrivano in una sola città in questo caso dell'Amazzonia la più numerosa degli italiani e più attiva degli italiani di Manaus parte da Castelluccio Inferiore che è un paesino della Basilicata così come in due piccole città lungo il Rio delle Amazzoni a metà strada tra Manaus e Belen due piccole città che si chiamano Ovidos e Santaren ci sono due comunità italiane composte esclusivamente da migranti partiti da San Costantino di Rivello un paesino minuscolo della Basilicata anche questa volta è importante sottolineare la peculiarità di questi filoni piccoli filoni migratori che richiedono una buona dose di coraggio di ardimento di cose e hanno bisogno anche in partenza di un sostegno di gruppi familiari parentali di paese che spingono verso l'avventura migratoria poi c'è un altro livello però che è quello come dire più elitario nella Manaus di fine ottocento c'è questo mitico teatro Amazonas che viene inaugurato nel 1897 con con un'orchestra diretta da un musicista italiano che si chiamava Enrico Bernardi e questo teatro in cui ha inaugurato quell'anno con un programma tutto italiano tutto di melodramma italiano sono almeno 30-40 serate inaugurali in questo stesso teatro gli artisti più importanti che realizzano le decorazioni del teatro il salone d'onore del teatro Amazonas è decorato da artisti dell'Accademia di San Luca una grande accademia romana che aveva in Amazzonia attiva a Manaus e a Belen c'erano artisti di rispetto questa accademia è un patrimonio culturale romano straordinario e due di questi soci dell'Accademia di San Luca Domenico De Angelis e Giovanni Capranesi sono gli autori di tutti i decori più importanti del teatro Amazonas ma anche dell'altro teatro il teatro da paz di Belen che sono i due poli urbani dell'immenso territorio dell'Amazzonia in tutti e due i teatri ci sono questi artisti dell'Accademia di San Luca che che lasciano lì il loro segno le loro opere c'è poi da da dire anche che ci sono anche presenze insistenti e persistenti presenze artistiche in campo musicale in queste in queste città soprattutto forse più che a Manaus a Belen dove si crea proprio una tradizione melodrammatica di stampo di stampo italiano che arriva fino ai giorni fino ai giorni nostri non è un caso poi tra l'altro che proprio a Belen finisca i suoi giorni Carlos Gomes il quale va a morire proprio a Belen e l'eredità di Carlos Gomes a Belen viene presa da musicisti italiani che lavorano poi continuano a lavorare lì nei decenni successivi poi tu Emilio nominavi a proposito del nord-est nominavi il caso di Salvador io tengo molto a mi piace molto raccontare dire qualcosa degli italiani di Salvador da Bahia perché è veramente particolare questa vicenda Salvador come tutti sappiamo è la città più africana del Brasile e si fa fatica a immaginare una consistente presenza migratoria europea italiana a Salvador eppure ci fu una presenza migratoria importante che ha lasciato tracce nella città intanto la provenienza come al solito è molto regionalizzata la provenienza di questi migranti a livello popolare nel centro storico di Salvador gli italiani sono prevalentemente calabro lucani diciamo ma a Salvador c'è anche una presenza come dire alta della migrazione italiana voglio ricordare solo due due personaggi un architetto Filinto Santoro che fu un architetto nomade nel senso che lavorò prima a Rio de Janeiro poi in Amazzonia a Manaus a Belen e infine proprio a Salvador dove concluse la sua la sua vicenda tutti i palazzi pubblici di Salvador sono opera di questo Filinto Santoro il quale istituì dei rapporti fittissimi rapidissimi con l'élite della città e diede appunto realizzò le architetture pubbliche più significative a fianco a lui c'era invece un artista a fianco assieme a lui e molto più a lungo perché ci finì i suoi giorni poi a Salvador uno scultore lucano di Venosa che si chiamava Pasquale De Chirico nulla a che fare con il pittore De Chirico e tuttavia si trattava di uno scultore di una certa levatura formatosi artisticamente a Napoli che lavorò per decenni a Salvador e lasciò tracce visibili ancora oggi tutte le statue pubbliche tutti i monumenti pubblici della città sono opera di questo Pasquale De Chirico non c'è una scultura che non sia opera sua non solo ma si tratta di un artista che poi seppe anche colloquiare interloquire con 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 la città afro nel senso che era anche un un bravissimo disegnatore che scelse come come oggetto dei dei suoi disegni ovviamente gli afro brasiliani di Salvador dunque una presenza come dire popolare da una parte culturale e artistica dall'altra nella città alla quale meno penseresti parlando di immigrazione italiana una città principalmente afro brasiliana e che si immaginerebbe restia ostile ad esperienze migratorie che invece ci furono io credo che questo elemento che non figura mediamente mai nelle ricostruzioni che riguardano gli italiani in Brasile o i brasiliani di origine italiana sia stato meritoriamente sottolineato anche qui e oggi una parte di storia che ci lega anche ad ambienti a personaggi e a iniziative che non sono solo di carattere o imprenditoriale o lavorativo ma anche proprio strettamente culturale o artistico io adesso non vorrei sbagliare ma credo che anche il teatro stesso di Manaus sia stato ideato e costruito da un architetto italiano però mi sfugge adesso la particolarità comunque ci sono molti teatri in Brasile che sono stati costruiti scusa Emilio il teatro più italiano è quello di Belen è il teatro da Paz che è costruito sul modello del teatro alla scala di Milano ecco allora forse ecco comunque questo per me è una sfida anche perché ci sono casi per dire che ne stiamo parlando veramente a larghi tratti con tutti i vincoli di tempo di esposizione che inevitabilmente abbiamo però per dire da Salvador de Bahia dove era nato e cresciuto uomo di colore mulatto parte nel 1943 neanche dovesse scrivere tristi tropici un sociologo e antropologo baiano che si chiamava Tales de Azevedo che poi diventerà trasferendosi per ragioni di studio nel sud del Brasile a Porto Alegre prima e a Cacias do Sul poi uno dei primi analisti seri dell'immigrazione dell'immigrazione italiana in Brasile messa a confronto con le popolazioni di origine europea e americana diverse Tales de Azevedo arriva nel 1943 nel Rio Grande del Sur e compie una prima come dicevano loro gli antropologi campagna di scavo e di indagine che perfezionerà poi dieci anni più tardi tornandoci oramai dopo la conclusione anche della seconda guerra mondiale nel 1953 e che è alla base di quel libro importantissimo per la storia degli italiani anche nel sud del Brasile che è Coloni e Gaussos nel Rio Grande del Sur un libro che esce nel 1975 che è alla base di tanti studi fatti successivamente gli angoli di storia che sono stati sfiorati soltanto dagli studiosi rispetto all'esperienza italiana in Brasile sono numerosi adesso parlavamo prima di Rio e della presenza della presenza italiana sia nella capitale sia nello stato di Rio de Janeiro in altre occasioni abbiamo parlato di insediamenti imprenditoriali industriali a Petropolis e a Cascatigna con migliaia di operai qua torniamo al discorso della manodopera italiana a Cascatigna se non sbaglio finirono per arrivare in più di 5 mila per la più parte originari di una località del verronese che si chiama Pescantina e anche lì c'è tutta una storia che è affidata di norma alle analisi dei giovani studiosi che nei dottorati di ricerca si dedicano la grande attenzione che meritano anche questi episodi che sembrano secondari così come possono essere apparsi secondari a qualcuno ma non lo sono invece i fenomeni di acculturazione e di scambio culturale che nascono a ridosso dell'esperienza migratoria come c'è stato detto per quanto concerne sia la stampa in lingua italiana di Rio de Janeiro molto meno studiata e conosciuta di quella paulista ma altrettanto importante sia dei protagonisti di una vita culturale o di una vita sociale e fra virgolette ricreativa come quella del ministro del divertimento Pasquale Segreto in un Brasile che cambia nel corso del novecento a sua volta determinando nei processi e nei fenomeni di adattamento e di integrazione degli italiani in tappe successive degli aggiustamenti e delle cose che riporteranno ad un certo momento a misurarsi con le novità anche politiche nella storia politica del Brasile a cui penso dedicheremo poi uno spazio specifico parlandone con maggior precisione ma fanno parte anche questi episodi che ci portano verso la metà fine degli anni trenta e poi a ridosso di questa vicenda bellica di cui dirò a parte che è una vicenda bellica che vede probabilmente per la prima volta interrompersi una relazione privilegiata col Brasile e dell'Italia perché questa volta la guerra che vede il Brasile impegnato a sua volta a fianco degli alleati non troverà tra questi alleati l'Italia anzi troverà l'Italia come nemico e i brasiliani nel corpo espedizionario che viene mandato appunto in Italia a combattere avranno anche delle componenti non a caso ma forse ci ritornerò italiani e tedesche e la vicenda cambia molte cose nell'evoluzione del rapporto fra l'immigrazione italiana e il Brasile del Novecento detto questo però credo che possiamo considerarci come dire parzialmente soddisfatti perché di cose da dire premio fammi aggiungere solo un piccolo contatto chiudi tu la nostra avventura tu hai nominato Tales de Alzevedo no? beh Tales de Alzevedo ha studiato questa comunità italiana a Salvador a Bahia e ha individuato un gruppo di 1500 italiani e ha compilato una lista un elenco di 250 cognomi italiani a Bahia quindi voglio dire in Brasile una qualche attenzione è stata rivolta a questa esperienza forse noi italiani storici italiani siamo stati un po' più distratti e ci siamo concentrati quasi esclusivamente sui luoghi nei quali l'emigrazione è stata una vera e propria alluvione migratoria diciamo e abbiamo un po' trascurato questi piccoli filoni queste piccole diramazioni periferiche che però da un punto di vista qualitativo hanno meritano attenzione e considerazione e hanno anche un altro pregio quello di sottrarre la storia dell'emigrazione e delle discendenze italiane in varie parti del mondo non solo in Brasile da quello che è l'uso più frequente e non sempre accettabile o positivo l'enfatizzazione ad esempio di caratteri regionali rispetto agli altri racconti semplificati di un'esperienza che come si viene comprendendo attraverso queste conversazioni che facciamo è molto complessa è molto variegata è di alto livello qualitativo per la storia della cultura e delle relazioni anche internazionali e non può essere appiattita come purtroppo spesso accade su piccoli abbastanza insensati oggi elementi di orgoglio etnico posteriori è importante ricordare che l'emigrazione italiana come l'Italia stessa essendo composta di realtà locali diverse locali e regionali nel momento in cui da luogo attraverso l'emigrazione a un trapianto a un trasferimento in altre parti del mondo in questa fattispecie in Brasile può dar luogo a delle forme di adattamento e di integrazione che tengono presenti le origini specifiche dei luoghi e quindi mi va bene anche il regionalismo italiano però l'enfatizzazione e talvolta anche la ripresa che ai giorni nostri si dà molto spesso ci sono fenomeni dei quali forse ci occuperemo e forse no chissà del turismo etnico bilaterale ci sono casi oramai già nel novecento in oltrato e poi ai giorni nostri sono frequenti ci sono pensate anche solo ai gemellaggi che esistono in particolare fra alcune zone del Veneto e alcune zone del Brasile i gemellaggi fra località che obiettivamente rimandano a una storia iniziale che ha parecchio in comune l'una con l'altra e vanno benissimo e ci sono anche altri aspetti che meritano di essere ricordati però non devono farci trascurare la varietà e l'importanza che si viene riscoprendo oggi come in questa occasione rispetto all'Amazonia rispetto alla Bahia rispetto alla stessa area Cariocca a Rio de Janeiro dove l'emigrazione italiana un ruolo lo ha avuto e non va dimenticato seppur si debba sempre ricordare che poi esistono come esistono nella realtà i macrosistemi dei fenomeni tipo quello del Rio Grande del Sul o quello paulista o quello minero che attraggono per via delle dimensioni delle proporzioni gigantesche di questo travaso di popolazioni di culture di lingue di esperienze di storie di vita sulle quali mi concedo anche oggi da voi che ci seguite e ringrazio moltissimo Vittorio anche per avermi riportato la realtà sin dall'inizio si vede che oggi ero in giornata particolare e do appuntamento ad un altro incontro che avrà luogo la prossima settimana arrivederci a tutti se no se vado in Brasile non si ricorda più di ritornare ogni volo e si sente dire o no da dove è la raccolta del caffè chi vola e si sente di rinforo da dove è la raccolta del caffè il secolo presente e qui ci lascia il 1900 si avvicina la fame già dipinta sulla fata che vengono e qui c'è la medicina per la mattina che vola un gran capire la dove è la raccolta del caffè per la mattina che vola un gran capire la dove è la raccolta del caffè del caffè del caffè del caffè del caffè